Oggi ti parlerò di tre tipologie di genitori pericolosi e di quello che potresti fare poi se ti accorgi di avere uno, di aver avuto insomma uno di queste tre tipologie come mamma o papà. La prima tipologia è il genitore reattivo. Il reattivo che cosa fa? Reagisce con rabbia o aggressività e a poca pazienza, quindi ha una soglia di tolleranza veramente molto bassa. Reagisce con rabbia oppure schiacciandoti, ti senti proprio sopraffatto da un genitore di questo tipo e ha dei suoi problemi comunque suoi personali di controllo, di vergogna che non ha risolto e quindi la conseguenza è questa. Magari da bambino ti sarà capitato di voler fare un pigiama party e di voler divertirti diciamo con i tuoi amici, andavi da questo genitore dal reattivo e glielo chiedevi. E se il genitore appunto era reattivo la sua reazione era un altro problema da risolvere, un'altra emergenza, non ho voglia di risolverla ma perché proprio a me. Oppure magari avevi bisogno di qualcosa per la scuola, magari di una firma o di particolari strumenti che il genitore ti doveva procurare. Anche lì il genitore se è il caso appunto di quello reattivo ti faceva sentire come un peso, come qualcosa che andava risolta ma che non aveva piacere diciamo di aiutarti nel risolverla. Oppure magari nel caso in cui tu fossi stato bullizzato a scuola oppure vittima di un abuso da un membro della famiglia. Purtroppo questo genitore reattivo in quel caso ti ha fatto sentire la causa del problema e magari la sua reazione era ma perché proprio a me, ma che cosa ho fatto per meritarmi una cosa del genere. E' proprio una reazione opposta, contraria all'empatia. E qual è il problema in questo caso? Il problema è che il bambino cresce pensando di essere la fonte di questa reattività e pensando veramente sempre di essere la causa. E quindi impara che tutte le volte che ha un problema, ha un bisogno, perché è terrorizzato da questo genitore reattivo, a non dirglielo. Quindi a non confessargli qualsiasi tipo di problema lui abbia. E le conseguenze quali sono? Sono che potrebbe o assorbire la stessa modalità di questo genitore reattivo, quindi quella di reagire in fretta diciamo a una situazione, o reagire comunque e non viverla, magari essere in contatto con le tue emozioni, oppure essere triggerato, quindi che una cosa ti provoca una forte reazione, da una persona che rispecchia, questo ovviamente avviene a livello inconsapevole, che rispecchia il comportamento del genitore. Quindi magari al lavoro un collega ha una reazione che inconsciamente ti ricorda le reazioni di rabbia che aveva questo genitore reattivo e quindi tu rimani, cioè praticamente stai rivivendo il trauma che hai vissuto in un tempo antico diciamo. e quindi per questi motivi è pericoloso avere un genitore reattivo. In ogni caso al fine del video ti dirò che cosa fare quando ti accorgi di avere questo tipo di genitore. E il secondo genitore di cui voglio parlare è quello che lavora e basta, quello che pensa solo al lavoro, quindi è distaccato nei tuoi confronti perché appunto pensa solo al lavoro, quindi non si preoccupa di creare una connessione emotiva e profonda con te. Quando tu magari gli vai a riferire qualcosa, cerchi, fai un tentativo disperato verso la creazione di questa connessione emotiva, la sua risposta è ma cosa ne so io, ma arrangiati. Un po' come quando ti sarà capitato di entrare in un negozio e di essere interessato a un determinato prodotto e magari fermi il negoziante, gli chiedi informazioni rispetto a quel prodotto, no? E il negoziante ti dice ma io che cosa ne so, ci lavoro e basta qui. Ecco questa è la stessa reazione, sullo stesso piano del genitore che pensa solo al lavoro. Quindi sarà un genitore che non conosce i nomi dei tuoi amici, non conosce i nomi degli insegnanti, magari è uno di quelli che non si assume la responsabilità di genitore perché pensa che fare il genitore si tratti solo di provvedere finanziariamente, economicamente, ai bisogni del figlio. E quindi è una variante del genitore che pensa solo al lavoro, potrebbe essere quella del super permissivo. E quindi ti lascia fare tutto quello che vuoi, però il lato negativo di questa cosa è che non ti mette delle regole che fungerebbero da protezione nei tuoi confronti perché queste regole poi dovrebbero essere ovviamente nel tuo migliore interesse. Le conseguenze quali sono dell'avere un genitore che lavora e basta e che non crea appunto questa connessione emotiva sono che magari nelle relazioni che avrai in futuro rischi di creare la stessa dinamica, quindi di trovarti magicamente con un partner con cui non hai questa connessione profonda perché non hai mai imparato come si crea e quindi avrai un partner che non è attento ai tuoi bisogni e distaccato, freddo, emotivamente parlando, freddo. Quindi queste sono le conseguenze. La terza tipologia di genitore è il genitore salvatore, tra virgolette. Perché salvatore? Perché è quel genitore che quando tu hai un problema lui sembra che ti dia un po' di sollievo ma in realtà non sta risolvendo il problema. Cioè, se per caso tu magari fossi bullizzato a scuola mi piace fare questo esempio perché secondo me è molto di impatto, no? Se fossi bullizzato a scuola oppure vittima di un abuso da parte di un membro della famiglia o qualcun altro e glielo vai a riferire questo genitore non ti risponde cercando di risolvere in maniera efficace il problema ma magari ti dà dei suggerimenti per come dare sollievo alla persona colpevole dell'accaduto non vorrà mai prendere una posizione è quel genitore che ti insegnerà la codipendenza, la sottomissione come dare sollievo alla persona colpevole di quello che ti è successo di cui tu sei stato effettivamente vittima e quindi vorresti risolvere il problema invece lui purtroppo e non c'è veramente non c'è la possibilità di convincere questo genitore a prendere effettivamente una posizione perché? Perché ha paura della persona colpevole e quindi sarà fedele a lei non sarà fedele a te tu potresti anche tentare di fargli prendere una posizione a questo genitore e potrebbe anche dirti faccio un esempio potrebbe anche dirti ah, mercoledì mattina parliamo con il colpevole e ti prometto che risolviamo la cosa poi arriva mercoledì il momento in cui è ora di arrivare insomma al dunque della situazione e lui si tira indietro improvvisamente si tira indietro e magari ti dice ah no no ho già messo a posto tutto io fidati che le cose andranno per il meglio cercando sempre di evitare di risolvere il problema perché ha paura e quindi salvatore in che senso? che sembra salvarti dalla situazione ma non ti sta salvando perché quello che ti trasmette è ti insegna la codipendenza la sottomissione e come mantenere le cose come posso dire in un equilibrio apparente che però di equilibrio non c'è assolutamente nulla in questo tipo di situazione e quindi che cosa cioè perché è pericolosa una situazione del genere? perché il bambino impara anche qui che quando ci sono dei bisogni o dei problemi non serve a nulla andare a riferirli a qualcuno o non sono importanti vengono in ogni caso trascurati e non hanno l'importanza che dovrebbero avere e quindi che cosa fare quando magari ti accorgi di aver avuto dei genitori di questo tipo? allora una cosa che aiuta molto che non credo sia la più importante però una cosa che aiuta molto è quella di arrivare a comprendere che i genitori a un certo punto della loro vita sono stati genitori sono stati figli anche loro prima di essere genitori sono stati figli anche loro in che famiglia sono cresciuti cosa hanno insegnato questi genitori di che generazione fanno parte e questo quando uno conosce anche l'infanzia dei suoi genitori questo aiuta molto a vederli un po' più sullo stesso piano tuo e non a giudicarli perché ovviamente c'è un giudizio ma è normale perché magari un bambino è diventato adulto senza nemmeno essere consapevole di queste cose che sono successe quindi quando poi diventi consapevole invece di questo è normalissimo provare rabbia risentimento frustrazione ed è giusto provarli è giusto anche accogliere queste emozioni e diciamo che vedere i genitori in un'ottica diversa un'ottica più ampia che comprende il fatto che anche loro sono stati figli aiuta tanto e il primo step però qual è? è prendersi cura della parte bambina che c'è ancora dentro di te e che è attivata da questi traumi che ha subito perché quando subisci un trauma l'energia il fluire normale dell'energia si blocca e quindi dato che si è bloccato in passato per risolvere il trauma questa energia deve ricontinuare a fluire per fluire cosa bisogna fare bisogna sentire le emozioni qualsiasi esse siano quindi la prima cosa diciamo che si prova quando si diventa consapevoli di queste cose che sono successe è rabbia veramente si è arrabbiati nei confronti della mamma del papà e e va bene l'importante è diventare consapevoli che quel bambino interiore quella parte bambina che c'è dentro di te che è stata ferita dalla mamma o dal papà perché magari rispecchia una delle tre tipologie di cui parlavo prima ascoltale quindi fagli sapere che va bene essere arrabbiato non aver voglia di vedere nessuno perché se ne vuole stare per i cavoli suoi in quel momento magari il tuo bambino interiore vuole stare da solo e non è ancora pronto a te che magari gli dai la mano o lo abbracci perché è un percorso prendersi cura del bambino interiore non è che lo iniziamo oggi ed è finito domani è proprio un percorso e si tratta di vedere che cosa comporta questo percorso cioè magari il tuo bambino in quel momento ha voglia di stare da solo oppure potrebbe aver voglia di un abbraccio e quindi lo devi ascoltare e devi vedere di che cosa ha bisogno in quel momento e questo come riesce a farlo? è diventando consapevole che tu non sei quel bambino che tu sei molto di più tu sei molto di più di tutte queste parti messe insieme tra bambino interiore critico giudice tutte le parti che ti vengono in mente tu sei molto di più e quando arriva la consapevolezza del fatto di essere molto di più allora da lì da quel centro lì ti puoi prendere cura di queste parti e non essere più identificato in loro perché il problema quando è che emerge quando tu sei identificato in una di quelle parti quindi magari nella relazione di coppia non sei tu ma è il tuo bambino interiore a stare con tuo marito o tua moglie e purtroppo lì ci sono dei problemi perché non diventa più una relazione alla pari perché ovviamente se tu sei il bambino in quel momento che cosa si aspetta il bambino si aspetta che l'altro sia il genitore e quindi dopo ci sono delle conseguenze purtroppo che non che non portano la relazione adesso è una relazione felice e appagante quando si recreano quelle dinamiche genitore figlio e non siamo più due persone alla pari quindi la soluzione ovviamente se ti accorgi di avere una di queste tre tipologie di genitore è accudire il tuo bambino interiore spero di esserti stata utile con questo video e ci vediamo al prossimo e ci vediamo